Amici di Bitimes Italia, benvenuti all'unboxing di LG G5. La scatola si presenta in maniera molto elegante e semplice. All'interno troviamo il dispositivo, molto bello anch'esso, e le cuffie che LG non ci ha inviato. Insieme a questo, lo classico spinotto per togliere il vano della microSD e la sim, e il caricatore con i carica veloce USB Type-C. Una volta scartato il terminale, possiamo vedere come i tratti di questo smartphone sono molto puliti ed eleganti. Sulla parte sinistra possiamo trovare il bilanciere del volume, spostato rispetto alla versione precedente, l'LG G4, mentre sulla parte destra possiamo trovare il vano che ospita la sim e la microSD. Sulla parte del retro invece troviamo il tasto per il lettore di impronte digitali e la doppia fotocamera. La parte inferiore di LG G5 presenta una parte in plastica che può essere rimossa per trasformarlo in telefono modulare. Basta premere questo pulsante per rimuovere la parte finale del dispositivo e successivamente rimuovere anche la batteria. Una volta rimossa la batteria si potrà montare su un modulo ulteriore che LG ci ha fornito, in particolare il modulo Cam Plus, che trasforma lo smartphone in una vera e propria macchina fotografica con controlli manuali.